Presidente, lei è la prima donna eletta Presidente del Senato, la seconda carica dello Stato. C'è ancora in Italia un forte divario tra i generi nella politica, ma anche nella vita sociale, nella vita di ogni giorno. Come si potrà colmare questo divario? Intanto devo dire che per me oggi è una giornata speciale. È un grande onore, è una grande responsabilità quella di essere la prima donna che occupa questo scranno così elevato. Certo ancora per quello che riguarda il mondo delle donne ci sono delle differenze, delle disparità. Io credo che bisogna ancora lavorare su questo, aiutando anche le donne spesso a conciliare la vita lavorativa con quella professionale, lavorativa. Spesso il disagio delle donne e anche una difficoltà di carriera dipende da questo, da una difficoltà di conciliare lavoro, famiglia e quindi un supporto su questo, che non può essere soltanto quello delle famiglie, dei nonni, ma anche da parte dello Stato è necessario ed urgente. La mia elezione è però anche la dimostrazione che le donne possono arrivare e quindi questo può essere un incoraggiamento per tutti che ce la possiamo fare e questo mi dà una particolare soddisfazione.